Musica Ed eccoci qua ragazzi Bentornati Sul mio canale Qui è sempre Uchika Gamer che vi parla E siamo tornati su Jedi Survivor Allora, allora, allora Noi siamo arrivati da di qua E dobbiamo Andare Allora vediamo se di qua possiamo Ok, si Allora, qua c'è il banco da lavoro Noi siamo arrivati da di là E abbiamo fatto qua Perché di là non Non abbiamo modo di salire Caccarola Allora Allora Ok Uh mierda Non è ancora finita Possiamo farcela Pronto BD No Oh dai l'avevo già superato Eh malido Non ho il Caccarola Caccarola Dai No Dai ma Dai che cazzo però Non ho l'avevo già superato Madonna Che fatica ho No ragazzi Veramente è difficile A parte veramente È stata tosta Certo Ma sono programmati per parlare così tanto Queste rovine della malora Ma se il capo dice che qui c'è qualcosa Non voglio certo contraddirlo Mmm Chissà quali rovine intende Ok scorciatoia Novo brano musicale Ah pure i brani Sblocchiamo Certo Allora Vediamo Un po' Vai vai su Oh Ma perché Dai vai su va Ok Ok Là è troppo in alto Cosa hai visto? Bravo Vedrai che Zetta riuscirà a decifrare questo disco Bene abbiamo un po' di dischi sinceri Sinceramente Allora Opla L'essenza Essenza della forza ottenuta Madò Minchia Quanto abbiamo aumentato di forza Eh ho capito Ma adesso dove dobbiamo andare? Ah di qua Aspetta Voglio tutto sigillato Non deve passare nessuno Neppure quella feccia Jedi Il bersaglio è un vigliacco Proprio così Forse dovremmo segnalare che l'abbiamo individuato Vorrei ucciderlo io stesso Ma è meglio obbedire a Reivis E che si deve arrendere? No no Ditemelo Fare che stiano difendendo qualcosa di importante Più avanti Corciateia Ah da sopra Ok Non potete entrare nel laboratorio E io entro Oh cribbio Aia Porca puttana Andiamo a mostrarlo a Z Ahia bello Ho subito Parecchi Da Qualunque cosa ci sia più avanti Non vogliono lasciarci avvicinare Possiamo andare Possiamo andare Ok Ok ma 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 di qua Ma di qua Uh E che è lì E che è lì Oh Ah di qua Ah di qua Però non ho capito perché prima non me l'ha fatto fare Cioè Cioè il mio primo mi ha fatto morire subito Dico io no Aia 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 Oh Ma Pure Pure Che no Pure Sì Vabbè ma dai Mamica ma Porta miseria Chiudiamo Chiudi 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 subito Ti ho presa Proprio non vogliono farci entrare Raggiungimi Ma perché stava scendendo Robusta Non penso di poterla muovere Ma questo cosa serve a qualcosa Di là La forza è con me La forza è con me Due 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 Tre Ok Potenzialo anche qualche abilità Allora la Si fa qualcosa Ma qua Non c'è niente Quindi devo spostare Quell'affare Mario Oh vedi Di qua Di qua non si va Ma di qua Si Ok Qua abbiamo fatto La scorciatoia Poveri droidi Lasciate qui soli Per secoli Fino all'arrivo Dei predoni Questo affare è rotto Inutile Secondo il manifesto Il droide è rotto Allora Vediamo un po' Qui cosa abbiamo Qui cosa abbiamo Parto Chiuso dall'altro lato Eh che bello Allora lì c'è un banco da lavoro Un mandaloriano Un mandaloriano Emettitore modificato Forse possiamo recuperarlo Oh ho 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 Stile guardia incrociata Ottenuto Andrò io Lo sai che sono il miglior pilota Per la missione Ogni nave che abbiamo mandato Nell'abisso È svanita nel nulla Andremo insieme Non ti lascerò rischiare da solo Questa è una tua invenzione E la capisci solo tu Sei l'unica Che può farmi tornare indietro Va bene Registrerò il passaggio E assicurerò il tuo ritorno Cri e Dagan Bisogna sbloccarla Oh che bellezza Torna qui Torna qui Farecchio lenta però Ora è devastante Fa un male porco Fa sta spada Dov'è il patetico Quindi E qua torniamo A dove eravamo Prima Ok aspetta che qua c'è Respira Quindi qua si va da qualche parte No Quindi di qua Vai BD1 Bravo Il piccolino Allora Scorso il città Io ho sbloccato Ma verso dove? Ah verso là Noi dobbiamo andare? È lì Ok Ok Il maestro Cordova Ha detto che Dagan Aveva un rifugio su Kobo Troviamolo Qualunque cosa abbia usato Per attraversare l'abisso Forse la troveremo qui Ma che è ci siamo? Devo salire sulla Mantis Mi sarebbe piaciuto Vederti da giovane Quando sfasciavi i navi su Bracca Scegliamo una rotta Allora abbiamo Questo cos'è? Jedha E questo è Kobo Torniamo a Kobo Siamo diretti alla miglior taverna di Kobo Hai visto quella roba che Kala ha trovato nel laboratorio? Non è stato di grande aiuto Forse controllando il rifugio di Dagan su Kobo capiremo qualcosa di più La gente va su Kobo dopo che le cose si rompono Non per rimettere insieme i pezzi Vale anche per te Gris? Se vuoi dire che su Kobo sono arrivato mezzo rotto Hai sbagliato Lateron Ero stufo di vedere le vostre facce Ok Grazie Ok 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 siamo tornati Secondo le ricerche del maestro Cordova C'è un insediamento abbandonato Oltre il lato est della valle Andiamo a controllare Ma qua si entra da qualche parte Andiamo da Z un secondo Salve ragazzi Cal felice di vederti Ciao Z Se doveste trovare i dei dischi dati della mia epoca Sarò lieta di decifrarveli Su Kobo dovrebbero essercene in gran quantità Se ne troviamo te lo faremo sapere Cosa abbiamo qui? Suscita la tua approvazione Non si può sbagliare con questo Una scelta oculana Cal Certo Allora Tanta bella gente è arrivata qua Allora andiamo Di qua Quindi da dove sono io mi devo girare a destra E poi andare di là Ah è un banco da lavoro questo Cosa ci facciamo qui? Battogliamo Come facciamo quasi ogni singolo giorno Questo non risponde alla mia domanda Presto c'è un intruso Stabilità ottenuto Perfetto Guarda là Altri imperiali Ah no Sono i droni del Che che parla Ah è lei Direbbe essere questa l'entrata Ma tieni la posizione Non concedere spazio al cedi E non mettermi in imbarazzo Inemico si appicina Abbiamo dato in attesa Danni Dobbiamo continuare a combattere Ok Ok E' chiuse Ma è questa la porta? Si è questa Eh ma come l'apro? Ci stiamo avvicinando Non vedo nulla di simile a un insediamento Si passa per di là Forza Ok 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 Un tacchino gigante Ok Molto Bene ragazzi direi che per oggi Possa essere tutto La prossima volta ripartiremo da qui Io come sempre vi invito A lasciare un bel like A commentare Condividere, iscrivervi al canale Se non l'avete ancora fatto E alla prossima Ciao belli